ben trovati a questa nuova puntata di talk sicilia oggi racconteremo la storia di una bellissima realtà siciliana che ha aiutato tantissime famiglie i momenti delicati della vita è nata nel 1987 quindi festeggia proprio in questi giorni forse addirittura anche oggi i 35 anni della nascita è cresciuta cresciuta tantissimo perché qui a palermo ce la ricordiamo quando è nata con una piccola rete poi sono cresciute anche le realtà le reti appunto si è allargate ha aiutato davvero tantissime persone leggiamo sempre commenti favorevoli per quanto riguarda appunto soprattutto l'assistenza l'umanità delle persone l'abnegazione nell'aiutare appunto chi soffre e chi soffre davvero tanto ne parliamo oggi con giorgio trizzino ex deputato fino a qualche mese fa che è stato proprio il fondatore possiamo dire quello che ha inventato la samoth insieme ad alcuni collaboratori sicuramente e che l'ha fatta diventare quella che adesso ben trovato grazie dell'invito e allora raccontiamo a tutti a chi che non conosce forse pochi diciamo che cos'è la che cos'è la samoth direi che nasce proprio il primo dicembre del 1987 quindi proprio oggi ma come tutte le cose non che non nascono per caso io voglio pensare anche ad una non casualità per quanto è accaduto per la fondazione di questa realtà che nasce in realtà ancora due anni prima quando casualmente mi capita di leggere su due quotidiani nazionali il corriere della sera e repubblica di una esperienza che viene fatta a milano da una realtà che si chiama fondazione floriani lo leggo casualmente che si occupa di assistere malati al termine della loro esistenza e soprattutto sperimenta una nuova forma di attività a casa con l'aiuto della famiglia in più a questi malati viene trattato il dolore che in quei momenti nel 1985 era ancora un mostro da 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 gestire ed era visto con grande terrore cioè questi medici di milano avevano avuto il risultato che il dolore con i loro trattamenti si riduceva quasi del 50 per cento questo questi dati mi hanno fatto riflettere molto e ho chiesto anche ulteriori informazioni proprio a quelle associazioni a questa associazione e ho pensato ecco dopo due anni elaborando un po questi questi pensieri di creare un prototipo una piccola cellula proprio a palermo con un paio di amici un medico infermiere con cui ho condiviso questa idea e lentamente pian piano abbiamo proprio intanto costituito l'associazione il primo presidente è stato il presidente del banco di sicilia guido savagnone lo ricordo con affetto è ormai non è più con noi ma è stata la prima persona che ha voluto credere a questa iniziativa rispetto alla quale molti non non sapevano neanche che cosa fosse noi stessi eravamo molto titubanti e quindi nasce questa questa idea questa l'idea di assistere il malato direttamente a casa un malato particolare sicuramente un malato che perché soprattutto in certi momenti le famiglie dico adesso ci siete voi ma prima erano un po' diciamo abbandonate no erano vivevano questa cosa il doppio lutto perché c'era una persona che non poteva diciamo essere assistita come 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 avrebbe voluto davanti a dolori veramente incredibili perché sappiamo e poi soprattutto c'è proprio il distacco il momento del distacco perché voi non è che fate soltanto assistenza diciamo medica è anche tutto il paziente viene preso in carico in maniera completa quindi anche psicologica aiutata molto anche la famiglia dico è un lavoro complesso ci spiega come come ce ne rendiamo conto subito della complessità di questo lavoro perché proprio come lei afferma gestire la complessità dei sintomi di cui il dolore è uno di questi sintomi non è così semplice possiamo dire che comunque parliamo di malati che hanno il tumore giusto che hanno questa in gran parte diciamo gente che 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 hanno appunto patologie molto gravi molto complesse e quindi che devono essere affrontati in maniera molto soprattutto con 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 professionalità quindi competenza diciamo la la sfera ci muoviamo ci muoviamo in questo proprio questa in questo ambiente si sono malati oncologici quelli a cui noi rivolgiamo la nostra attenzione ma parliamo di pochi casi ecco già ci preoccupava di poterne seguire in linea 34 perché abbiamo iniziato con uno solo ovviamente per capire intanto che che dimensione aveva questo tipo di assistenza poi l'abbiamo ampliata siamo arrivati a 5 poi siamo arrivati a 10 con grande preoccupazione perché non avevamo le forze non c'erano le risorse anche finanziarie per per mandare a casa il medico l'infermiere e poi abbiamo rivolto la nostra attenzione poi dopo negli anni successivi anche ai malati non più oncologici ma di tutte le altre patologie cronico degenerative da quelle che riguardano ecco le degenerazioni come neurologiche tipo alzheimer malattie cardiovascolari perché ecco la la fase complicata della malattia non riguarda soltanto la patologia oncologica ma riguarda un po' tutte le malattie cronico degenerative perché che portano poi ad un aggravamento allora non possiamo lasciare indietro chi non ha una malattia oncologica ha gli stessi diritti ovviamente dei malati tumorali e quindi abbiamo esteso e abbiamo portato a 100 assistenze poi 200 ecco per andare direttamente ai numeri oggi in questo momento solo a palermo samot assiste 700 malati linea quindi partiamo da uno e arriviamo a 700 sono numeri sono numeri importanti anche perché comunque certe malattie in questi anni in questi ultimi anni stanno crescendo notevolmente perché è aumentata la sopravvivenza perché la medicina ha fatto grandi risultati ha avuto grandi successi e quello più importante è questo di allungare la nostra vita e questo è molto importante però a volte a scapito della qualità della vita perché ecco oggi abbiamo davanti a noi una medicina che vuole arrivare necessariamente al proprio risultato che è quello di risolvere non di risolvere il problema ecco ma di tamponarlo e quindi tamponandolo allunga la sopravvivenza ma allungando la sopravvivenza talvolta si creano delle complicazioni e delle sofferenze sulle quali bisogna intervenire ecco i nostri malati fragili i malati anziani rispetto ai quali dobbiamo attivare un'assistenza a casa molto onerosa da un punto di vista proprio di organizzazione e a volte anche di intensità di assistenza quindi un medico un infermiere un assistente sociale un fisioterapista per la riabilitazione uno psicologo che interviene non soltanto sul malato anzi ecco poco sul malato ma soprattutto sulla famiglia che diventa attore principale nell'assistenza non si può pensare ad un'assistenza a un malato così complicato se non con la presenza attiva e con un intervento costante del familiare che noi chiamiamo caregiver perché individuiamo all'interno del nucleo familiare una persona che può interloquire con noi che non tutti possono farlo e che si sostituisce a noi quando noi non siamo a casa però ci sono poi dei casi in cui a casa non si possono gestire queste malattie e quindi? Mi aspettavo questa domanda e quindi sono quei casi complessi in cui i sintomi sono talmente complicati talmente importanti e non risolvibili a casa oppure perché c'è una situazione familiare che non permette che il malato possa essere quindi una solitudine assoluta di una persona che non può essere gestita a casa ecco allora l'alternativa è la residenzialità che noi abbiamo modificato noi non proponiamo al malato il reparto ospedaliero quello a cui noi siamo abitualmente abituati a pensare ma abbiamo creato dei reparti specifici che chiamiamo hospice che sono dei reparti bellissimi da un punto di vista diciamo strutturale di organizzazione io ho visitato quello del civico dove c'è la cucina, c'è la possibilità di avere spazi propri, il salotto una casa, una casa grande una casa elegante, una casa molto bella direi a quattro ce le vorrebbero tante? io vorrei che tutti i reparti fossero come gli hospice nostri in Italia cioè con il legno alle pareti, gli armadi in legno, le tende un po' come casa un po' come casa, abbiamo ricreato esattamente, io ho diretto proprio quello dell'ospedale civico per 5 anni abbiamo ricreato un albergo a 5 stelle possiamo dire che oggi è funzionante, ospita malati ecco selezionati che risolvono il loro problema legato a quel sintomo, all'aspetto particolare poi ritornano a casa ad una gestione complessiva da parte della famiglia e dell'equipe domiciliare quindi l'ospice è un reparto di transito, ecco questo è importante sottolinearlo dove si mettono a punto determinate cose e poi si ritorna ad un'assistenza a casa che è molto più conveniente sia da un punto di vista economico perché è ovvio che in questo senso la sanità risparmia ma è più confacente al bisogno del malato che trovandosi nella propria stanza da letto tra le proprie cose, tra i propri cari, ha una risposta nettamente migliore anche rispetto alle terapie che vengono fatte perché risponde molto meglio Facciamo un passaggio alla cronaca come sono stati i due anni di pandemia per la Samot? L'assistenza domiciliare penso che non sarà stata semplice? No, sono stati difficili ma eroici lo voglio sottolineare perché non soltanto a Palermo ma in tutta Italia e probabilmente anche fuori dall'Italia le unità operative di cure palliative come Samot e come gli altri centri erogatori sono stati quelli che sono stati sulla trincea a combattere la malattia a mani nude o meglio con i guanti, vestendosi ogni volta per andare dal malato a casa togliendosi e rischiando notevolmente di persona sono stati veramente eroici questi medici che sono stati gli unici a varcare la soglia di casa senza timore o meglio col timore sicuramente del contagio ma con lo spirito del dovere di aiutare persone che altrimenti sarebbero rimaste completamente sole con la gravità della loro malattia e nella solitudine assoluta della gestione perché a volte ricordiamo che non c'era neanche la possibilità di fare una telefonata a un medico che si rendesse disponibile i nostri operatori invece sono stati lì sono stati a casa certamente abbiamo attivato molto il teleconsulto la telemedicina perché dove era possibile ci siamo collegati anche anzi visivamente con il telefonino, con il computer per monitorare l'andamento della situazione ma dove era necessario andare sono andati no perché immagino gli ospedali hanno avuto le loro belle da fare immagino anche voi che dovete andare proprio a casa cioè è una cosa diciamo ancora più complicata quando c'era il lockdown bisogna stare tutti dentro però è stata un'esperienza proprio Samot e gli altri enti erogatori hanno costituito delle equippe specifiche che hanno gestito proprio i malati con Covid perché c'erano anche tutti gli altri che erano fortunatamente esenti dalla malattia ma per quelli che avevano il Covid si è costituita proprio una struttura una struttura operativa che si recava a casa in quelle condizioni ovviamente di tutela con i dispositivi necessari per evitare il contagio e devo dire che alcuni dei nostri operatori si sono contagiati non posso non ricordare in questo momento il responsabile degli infermieri Totò, diciamo soltanto il nome che purtroppo ci ha lasciato in corsa proprio per un contagio che lo ha interessato personalmente ed è andato via ecco questa è la storia vera la storia giornaliera di una realtà che sta a fianco alla sofferenza che è in trincea una realtà che sta in trincea e che sicuramente rappresenta un tostegno, un aiuto per la sanità in questo momento, in questo periodo parliamo di ospedali sempre strapieni di liste d'attesa di tutta la sera quindi questa assistenza domiciliare potrebbe essere anche allargata dico non soltanto limitata a chi è che ha patologie oncologiche ma penso ad altre patologie quindi potrebbe essere veramente diciamo un aiuto ma voi alla politica cosa chiedete? ora abbiamo il nuovo sindaco il nuovo presidente della regione allora la richiesta è molto semplice riguarda la piena attuazione di quelle che sono i provvedimenti nazionali una parola per tutte un termine anzi è PNRR che ormai è inflazionato e di cui tutti sentiamo parlare a pranzo, a cena e a colazione il PNRR ha stanziato dei fondi enormi proprio per la sanità e specificamente per quello che lei giustamente suggerisce per le cure domiciliari noi dobbiamo portare in Italia il livello di assistenza domiciliare dal 4% che attualmente abbiamo come numeri al 10% cioè prendendo in carico tutta una popolazione di persone fragili anziane non ecco malati oncologici a cui finito abbiamo parlato ma tutta quella categoria di malati che invece di stare in ospedale possono essere gestiti comodamente a casa perché non c'è bisogno ecco di una presenza costante e continua del medico in questo modo si risparmia molto perché la sanità non so certo c'è un investimento iniziale si risparmia si lasciano posti dentro liberi per le emergenze reali soprattutto i pronto soccorsi non sono intassati da questi continui accessi inappropriati di persone che non avendo ovviamente alcuna risposta non c'è nessuno che dà seguito alle loro problematiche alle loro domande è costretta ad andare al pronto soccorso per risolverle ed ecco che si intasano perché naturalmente senza pensare alle liste d'attesa che ci sono dico in questo periodo lo so per certo ci sono almeno 500 persone al civico in lista d'attesa per un tumore alla vescica questo è uno dei dati diciamo ma possiamo anche andare a oltre perché adesso con la pandemia quindi cioè anche se una persona ha un tumore per sapere di che natura è che sappiamo benissimo che è una cosa fondamentale perché si parla sempre di prevenzione si parla sempre se appunto non si affronta non si sa subito di che cosa stiamo parlando la terapia parte dopo la radioterapia parte dopo tutto quello che parte dopo e quindi è possibile che questa cosa diciamo diventi ancora più grave quindi 500 persone solo per essere per un intervento per sapere di che natura è il tumore sono numeri importanti a Palermo sono numeri perché sono 500 persone che stanno male quindi certo e soprattutto ce ne sono tante altre che non essendo si potute recare in ospedale per fare gli accertamenti certo e purtroppo oggi ci accorgiamo che sono in una fase avanzata di malattia che non è più trattabile e non è più curabile e questo è colpa della pandemia del Covid certamente ma anche di un sistema nostro sanitario nazionale non mi riferisco a quello regionale che non ha saputo contemporaneamente badare a tutti i soggetti fragili che non erano soltanto coloro che avevano preso il Covid ma erano anche tutti quelli nelle liste d'attesa che stavano aspettando un intervento chirurgico magari ecco per un qualcosa di semplice un'ernia ma che un'ernia poi si può aggravare si può complicare io da chirurgo ne ho viste di situazioni che non trattate chirurgicamente poi diventano inoperabili a quel punto perché ecco allora le cure domiciliari sono fondamentali sono una strategia vincente per il futuro della reimpostazione della sanità e questo ce lo consegna la riforma nazionale della sanità territoriale questo DM si chiama 77 così è stato nominato che ristruttura riprogramma completamente l'assistenza territoriale dando alle cure domiciliari un punto preeminente un punto centrale nello sviluppo perché portando a casa i malati e trattenendoli a casa gli ospedali funzionano meglio non sono ingolfati e soprattutto il malato guarisce prima stando a casa perché non si contagia con altre patologie che può prendere nei reparti e quindi ecco va assolutamente tutelato perché porta un risparmio un risparmio in ogni questo sarà un sogno o sarà realtà? no deve essere una realtà assolutamente anche qui da noi in Sicilia io ne ho parlato con l'assessore Giovanna Volo che è assolutamente d'accordo su questo sviluppo della medicina territoriale dando precedenza assoluta proprio all'ambito questa volta c'è un assessore che ha fatto pure non voglio dirlo non me ne abbia nessuno che ha preceduto l'assessore ma l'assessore Volo adesso faceva il medico faceva il medico faceva il direttore sanitario ha fatto quindi conosce bene ha qual è la realtà siciliana e quali sono le esigenze vere dei medici no? cioè parlate lo stesso linguaggio assolutamente perché siamo entrambi igienisti io ho lavorato per diversi anni con l'assessore con la dottoressa allora Giovanna Volo oggi assessore e so che ha una capacità di visione nella programmazione nella riprogrammazione della sanità siciliana che certamente ha fatto dei passi avanti in questi anni non dobbiamo negarlo abbiamo grandi strutture ospedaliere però abbiamo una rete territoriale che stenta a tenere il passo molto caranto e su questo bisogna lavorare e so che l'assessore Volo sta immaginando ecco degli interventi importanti proprio per riprogrammare e dare un nuovo assetto a questa sanità del territorio che ha come centro ricordiamocelo la medicina generale ecco cioè non si può parlare di riforma del territorio se non ancorata a una attenzione massima verso il bisogno dei medici di medicina generale che ne fanno parte integrante ci sono tantissimi temi perché diciamo c'è la questione legata appunto ai pronto soccorso che sono sempre ingolfati tanti medici che non ci vogliono più andare perché ci sono soltanto responsabilità e rischi le liste d'attesa di cui parlavamo reparti ancora da migliorare pronto soccorso è anche da migliorare nelle grandi città perché Palermo ne ha uno che è quello importante che è il civico gli altri diciamo sono ancora abbastanza malconci di lavoro ce n'è tantissimo però tornando appunto alla Samoth quindi 35 anni diventeranno 70 cioè proseguirete in questo percorso io lo auguro non soltanto a Samoth ma ai cittadini che ne hanno fruito in questi anni e se lei me lo permette in conclusione ricordiamo che oltre a Samoth dobbiamo celebrare oggi la partenza della scuola di specializzazione in cure palliative proprio qui a Palermo per la prima volta in Italia si attiva questo nuovo corso di specializzazione la formazione è fondamentale per qualsiasi tipo di riforma della sanità bene io la ringrazio davvero tanto di essere stato qui con noi grazie a lei sicuramente ci risentiremo perché sarà sicuramente ospite perché qualcuno mi ha detto che è anche diciamo consulente del sindaco del sindaco di Palermo la Carta per quanto riguarda la sanità e quindi potremmo affrontare temi e vicende di questo nostro capoluogo che speriamo possa avere un futuro un po' più roseo allora io la ringrazio davvero tanto il Diorio Trizzino appunto il fondatore della Samoth io vi ringrazio tantissimo di essere stati ospiti con noi e vi auguro una serena giornata un po' più